Benissimo, ben trovati, continuiamo la seconda parte del video dedicato alla prevenzione delle malattie radicali, quindi delle radici e la prevenzione anche delle malattie provocate dagli insetti e dai danni provocati dagli insetti stessi in base al tipo appunto di insetto. Io sono sempre Gianluca, il vostro produttore di fiducia, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete mi piace quando vi piacciono i video, condivideteli, fate quello che volete, è importante che fate i bravi giorni. Siamo arrivati, andate a vedere ovviamente il video precedente se non l'avete già visto, se no non continuiamo il filo del discorso. Va bene, quindi siamo arrivati, abbiamo trapiantato il pomodoro e abbiamo messo sotto i pannelli di neem, se volete utilizzare come quelli che utilizziamo noi, sono molto più efficaci perché contengono anche i tannini di castagno che sono molto repellenti per i lepidotteri in generale, ma soprattutto per la tuta assoluta. E sono anche molto efficaci contro la cimice asiatica, afidi, insomma sono veramente, ne abbiamo parlato in altri video, anche quelli li metterò nelle schede. Cosa succede? Quando la pianta inizia a radicare per bene dopo 4 giorni dal trapianto sarebbe indicato fare un preventivo, un altro preventivo sempre radicale per la questione batteri e funghi del terreno. Va bene, ne ho parlato in un altro video, lo metterò nelle schede, anche quello che è abbastanza famoso. In buona sostanza noi facciamo un trattamento a base di un prodotto a base di propoli, va bene, propoli da estrazione vegetale e uno a base di rame sotto la forma di ossicloruro di rame, va bene, scusate se c'è un po' di confusione nel mio cervello, pazienza. E questa è la vita, così è la vita, dico sempre io. Quindi questo trattamento dopo 4 giorni noi andiamo a schermare, perché abbiamo detto che il NIM, i pannelli, comunque quello che è, ci scherma nel primo periodo dai nematodi. Invece per la questione batteri e funghi dobbiamo fare un intervento ai 4-5 giorni, in questo periodo dopo 4 giorni la pianta deve avere i capillari già sviluppati, deve essere abbastanza radicata, controllate scavando leggermente col ditino qualche millimetro di terra attorno al fusto della piantina. Dovrebbero vedersi nuovi capillari che escono insomma dalla torba, dal vasetto o insomma in base a come avete fatto voi il trapianto. Quando vedete questa cosa, ripeto, 4 massimo 5 giorni, fare questo trattamento preventivo per le dosi, dovete andare a vedere l'altro video. Sono comunque dosi abbastanza, si parla di un litro ogni millimetri quadrati per tipo di prodotto, quindi visto che sono due, si potrebbe anche fare, se vogliamo, ma è in più, un trattamento preventivo per i nematodi. Per i nematodi si utilizza invece di solito olio di senape e NIM in una forma fatta apposta per l'azione radicale, va bene? Anche quelle se ne trovano in commercio, noi utilizziamo sempre la stessa linea, ormai lo sapete, andatela a cercare nei vari video, comunque ne parliamo spesso e volentieri. Quindi, questo dopo 4 giorni, contemporaneamente, cosa possiamo fare nella parte superiore? Subito dopo la pianta inizia a crescere, dopo una settimana, 8 giorni, insomma vediamo che ha avuto già una certa crescita, come dovrebbe avere se non crescono le piante, cambiano colore, troppo chiare, troppo scure, ci sono problemi, possono essere di diverso tipo. Ne ho parlato anche nella guida per una piccola coltivazione di pomodoro di alta qualità, c'è il video, anche quello ve lo segnalo, che è importante, si può abbinare a questo qui. Questo diciamo che è un approfondimento rispetto a quel video. Cosa succede? Se è cresciuto dopo una settimana, ecco in questo periodo, massimo 10 giorni, io consiglio vivamente di applicare zolfo, non con il solfatore che in 100 metri quadrati vi mette, che sono 200 grammi di zolfo. Qua parliamo di dare intorno ai 2,5 kg in 100 metri quadrati, quindi 10 volte tanto, e applicarlo o con la famosa tecnica col sacco, non so se la conoscete, un sacco a rete, o comunque prendete una rete, mettete lo zolfo, la chiudete e date il colpetto sopra la pianta e uscirà con una certa quantità di zolfo. Zolfo agricolo, quello che si utilizza appunto col solfatore, super ventilato, come si chiama, insomma, non ci siamo capiti. Ho fatto anche un video dedicato allo zolfo, lo potete andare a guardare. In questo modo applicandone tanta, oppure direttamente a mano e via, mettete mascherine, guante, quello che volete voi, a mano, così, 2,5 kg ne dovete mettere, è una certa quantità, capite? È molto voluminoso perché è super leggero, è molto volatile. In questo modo perché localizzato pianta e ne cadrà un bel po' nel terreno, nei pressi della piantina. Questo lavorerà in sinergia con quello che abbiamo interrato sotto nella preparazione, quindi o solfato di ferro, o solfato ferroso, o zolfo pellettato. Lavoreranno e aumenteranno questo fastidio contro tutte le malattie fungine e di origine batterica, in quanto così, acidificando, abbiamo questa prevenzione, questo effetto. Farà bene anche per quanto riguarda l'assorbimento dei vari elementi che ci sono nel terreno e sarà anche questo a lenta cessione, quindi uniamo questa cosa. In più, lo zolfo addosso alla piantina ha l'effetto di asciugare, quindi ci dà, ed è molto efficace contro il preventivo, contro l'oidio, il mal bianco, quindi contro l'oidio abbiamo anche lì una forte prevenzione. È anche il repellente contro diversi insetti. Unito all'azione abbiamo messo noi anche i pannelli di NIM, Tannino di Castagno, quello che è, in base a quale userete, comunque già solo quelli di NIM sono molto efficaci, però contro la tuta a un certo punto non ce la fanno. Bisogna utilizzare i tannini di castagno. Se li utilizzate dall'inizio, come abbiamo visto, se andate a seguire, c'è la playlist dedicata alla tuta assoluta. Se andate a vedere lì, come abbiamo visto, se si utilizzano questi tannini di castagno repellenti, dall'inizio abbiamo risultati eccezionali, danni pari quasi a zero nelle coltivazioni di pomodoro. Va bene, visto e testato, ci sono tanti video, andatele a vedere. Tornando a noi, quindi Zolfo, abbiamo prevenzione sia per la questione radicale a lenta cessione, sia subito per la questione che ci asciuga la pianta e ci è repellente anche per i ragni, i ragnetti, il famoso ragnetto rosso, il ragnetto rugginoso e il preventivo anche per quello. Poi cosa dobbiamo fare per continuare i nostri preventivi a 360 gradi? Va bene? Sono sempre, le giriamo sempre lì come sostanze, però ci coprono a 360 gradi tutte le sostanze minerali, naturali, biologiche, fate quello che volete voi, residuo zero, niente chimica, ok? Dobbiamo fare una volta a settimana, in questo periodo ancora entro sicuramente tutto maggio, dei trattamenti fogliari, in questo periodo come preventivo va benissimo il chelato di rame, un prodotto a base di chelato di rame come fungicida, sempre un prodotto a base di propoli che lavora in sinergia col rame, lo fa agire molto di più e poi in se stesso il propoli è un, abbiamo detto, abbiamo dedicato dei video anche al propoli naturale di estrazione vegetale per i trattamenti sia fogliari che radicali, andatelo a cercare, è un conservante naturale intanto, quindi nella fase grande quando saremo a produzione ci darà questo vantaggio di avere dei frutti che si conservano più a lungo, ci dà sempre il vantaggio di asciugare, quindi ad esempio le fioriture, quando vanno a seccare i petali, insomma il fiore quando va a seccare dopo la legaggione ce lo asciuga il propoli, in generale asciuga la pianta in base a come è formulato è anche un fungicida di per sé. lavorando con il rame, il rame di solito è molto efficace contro la peronospora, va bene, insieme al propoli diventa efficace un po' per tutte le malattie fungine, come ad esempio potrebbe essere le clodosporiosi, le varie muffe, c'è la muffa grigia che è brutta, la muffa grigia dobbiamo stare attenti a non farla, ho fatto anche lì un video dedicato, a non farla iniziare perché quando inizia poi sono cacchia male, e la muffa grigia soprattutto è una cosa importantissima, quello ne parleremo anche in futuro, lo facciamo in breve, se ne appare tanta e anche per disfunzioni della pianta, nel senso se la pianta è troppo debole, non assimila bene o ha delle carenze, viene attaccata più facilmente dalla pianta, invece se la pianta è sempre vigorosa, bella attiva, la muffa grigia ha problemi ad attacchire, se noi facciamo questi preventivi una volta a settimana, quindi abbiamo detto propoli, rame, chelato di rame, va bene, se già vedete qualcosa, qualche foglionina di peronospora, invece del chelato di rame, invece del chelato di rame, utilizziamo l'ossido rameoso che ha la caratteristica di essere molto persistente, quindi noi lo andiamo a fare e per una settimana fassiste nella pianta, quindi ha questo effetto micidiale contro la peronospora, veramente micidiale, non esiste prodotto chimico che può eguagliare questa efficacia contro la peronospora, parliamo. Le muffe, ripeto, già ne abbiamo parlato delle muffe a grigia, le altre malattie come antracnosi, glodosporiosi, altre malattie fungine, magari bisogna insistere un po' di più, si deve vedere con le dosi, ma se noi lavoriamo di preventivi, guardiamo le nostre coltivazioni, le nostre piante, come si comportano, con i preventivi. Allora, dice, ma devo fare tutti questi trattamenti, tutte queste sostanze, sono tutte preventivi che le dose sono molto basse, parliamo di, ad esempio, il chelato di rame si può fare 2 grammi litro, il propoli uguale. Poi, vi consiglio sempre una volta a settimana, scusate se è un po' saltello, vi consiglio sempre, in questo trattamento settimanale, di unire il trattamento insetticida, che in questo periodo ci sono tutti gli insetti, appunto, qui, quello, andate a vedere il video, quello consigliato, noi consigliamo bacillus, olio di senape e neem, tannini di castagno in formato liquido, ovviamente, e zolfo colloidale, ancora zolfo, zolfo bagnabile, zolfo solubile, ancora zolfo, zolfo si unisce in questa forma, si unisce ai tannini repellenti, aumenta l'azione. L'olio di senape e neem, l'olio di neem è un insetticida di per sé molto efficace, tutte e due insieme diventano anche molto efficaci per la questione di far funzionare bene il bacillus, che è un altro insetticida contro i lepidotteri, sempre, questo qui però è microbiologico, i due oli lo fanno entrare nelle foglie dove si vanno ad annidare le larve, si vanno ad annidare, e poi dopo poco le vedremo uscire fuori, ho fatto un video anche, e ho fatto vedere la larva morente che era sulla foglia che non sapeva cosa fare, va bene, ok, quindi una volta a settimana facciamo questo trattamento con queste, alla fine, magari per chi è alle prime armi o chi non ha mai utilizzato queste sostanze, potrebbe dire, ma tutte queste cose, una volta a settimana, quanto ci vuole per andare a raccolta, signori, in questo periodo, poi ogni due settimane ripetere il trattamento sulla pianta con i pannelli di neem, meglio i tannini di castagno, meglio per la tuta, va bene, soprattutto se siete in una zona a rischio che ci sono diversi che producono pomodoro quindi, o anche altre solenaci, insomma si sviluppa la tuta, lo sapete per esperienza degli anni passati che ha fatto diversi danni la tuta, utilizzateli questo benedetti tannini di castagno, se li utilizzate dall'inizio, come ho detto poco fa, vi schermano dalla tuta, la controllate quasi al 100%, e in più sono repellenti contro la cimice cinese, contro gli afidi, contro le aleuroidi, che quello lì è importantissimo, lo dovevo dire prima, noi abbiamo detto, lo facciamo da quando andiamo a trapiantare, sono molto repellenti contro le aleuroidi, che nome che hanno, che sono insetti portatrici delle virosi, delle virosi, che è il famoso arricciamento fogliare, che se prendono la piantina così piccola è morta, va bene, non produrrà niente, seccherà dopo, può, andrà a morire, va bene, quindi questo è il quadro, un'altra settimana, trattamento fogliare, così, così, se volete potete arricchire, un'altra mettete un po' di calcio, quando ci sono le fioriture, un po' di calcio e boro, va bene, quelle sono piccolezze, potete andare ad arricchire, un po' di alga marina, nella fase quando dobbiamo fare, ingrandire il grappolo, un po' di alga marina, va bene, oppure dividete i trattamenti, quello fogliare, insetticida e fungicida, e dividete un trattamento, diciamo, più, appunto, per arricchire così con i microelementi e mesoelementi, come abbiamo detto il calcio e il magnesio, che fanno benissimo, abbiamo parlato anche di quello, cercate, troverete tutto, tutto in questo canale, o quasi tutto, insomma, solo per quanto riguarda la produzione di pomodoro di altissima qualità, va bene, in questo periodo, dopo, che so, 50 giorni, 60 giorni, andate alla raccolta, va bene, se tutto va bene, c'è una certa temperatura, caldo secco, in base alla zona dove siete, ma più o meno in tutta Italia, andiamo in una situazione di caldo secco, e la maggior parte degli insetti con quelle temperature all'esterno, ecco, il vantaggio che avete voi, il vantaggio che avete a piano campo, siete, c'è tanta aria, tanta aria, va bene, tanta aria fa bene alle coltivazioni di pomodoro, fa tantissimo bene, il sole diretto spaventa la maggior parte degli insetti, primo fra tutti la tuta, che è gli altri lepidotti, che sono notturni, va bene, gli altri insetti, l'unico che è un po' più manello, così, può essere il ragnetto rosso o quello rugginoso, il ragno rugginoso, ma se noi facciamo i preventivi a livello fogliare con un zolfo colloidale, quindi bagnabile, e ripetiamo almeno un'altra volta prima della raccolta, il trattamento con lo zolfo, così, nella pianta, applicato alla pianta, anche un po' prima della raccolta, che so, dopo un mese dal trapianto, lo andiamo a rifare, allunghiamo tantissimo, allontaniamo tantissimo eventuali attacchi dei nostri ragnetti, come detto prima, e quindi, anche se poi, dopo, che so, dieci giorni che abbiamo iniziato la raccolta, andate a capire quando inizieranno ad apparire questi ragnetti, noi abbiamo finito, finiamo tutta la raccolta e così via. I trattamenti, quando si inizia la raccolta, per quanto riguarda i trattamenti, quelli che ho consigliato poco fa, fungicidi, se non vediamo niente, non vediamo niente, ma anche prima, volendo, i fungicidi li possiamo togliere, va bene, se non vediamo che non c'è presenza di muffa, non c'è presenza di peronospora, li possiamo sospendere. Stessa cosa per quelli insetticidi, o li facciamo ogni due settimane, gli insetticidi, visto che la questione c'è appunto l'insetto, in questo periodo caldo, si può sviluppare facilmente. La potremmo spostare ogni due settimane, o quando c'è bisogno, quando c'è bisogno, perché noi, quando noi arriviamo a raccolta, magari se cimiamo la pianta, sono tutte cose che abbiamo detto negli altri video, la pianta inizia ad essere bella, concentrata, tosta, adulta, diciamo, ha un ciclo più lento e volendo, gli insetti dovrebbero rallentare la loro azione malefica contro le nostre piante. Quindi, da valutare, quando si inizia la raccolta, se non c'è presenza di funghi e di insetti, quindi, possiamo anche sospendere i trattamenti e farli quando vediamo comparsa di problemi, va bene, se vediamo, che ne so, mosca bianca o farfallina, quello che è, e rifacciamo un trattamento per ripulire la nostra coltivazione. Questo è una cosa invece che ho visto anche per esperienza personale fra, così, appunto, persone che conosco e quello che vedo su internet. Molti invece agiscono così. Quando vedono le famose farfalline o quando vedono le mosche bianche, quando vedono la cocciniglia, o piuttosto che vanno a fare il trattamento. Quando già vedi tu l'insetto, nel caso delle all'eurodidi, come abbiamo detto, quelle lì che portano, se sono infette da virosi, quando tu le vedi, se sono infette già molto probabilmente, quasi, sicuramente, ti hanno, diciamo, rovinato la pianta e stata infettata da virosi. E la virosi non si può curare. Per questo, come ho detto nella premessa all'inizio, prevenire più, la maggior parte delle volte è anche curare. Per quanto riguarda le malattie, tornando indietro alle radici, noi dobbiamo fare questo trattamento, quello che abbiamo fatto dopo quattro giorni dal trapianto, quello contro le fusarium, i funghi, i batteri del terreno, lo dobbiamo ripetere almeno ogni tre, quattro settimane, io direi, a pieno campo. C'è la questione acquazzoni che possono lavare i nostri trattamenti, sia radicali, quindi valutare la questione, magari di anticiparli se ci sono stati momenti piovosi. Un trattamento con olio di senape concentrato per la repellenza contro i nematodi si dovrebbe fare una volta al mese pure, perché solo il pizzico che andiamo a mettere sotto di pannelle di NIM, non ci può schermare fino a tutta la fase raccolta, eccetera. Almeno una volta al mese andare a fare un interesse. Se voi sapete che nel vostro terreno è infetto da nematodi, le esperienze degli anni passati, magari uno lo fate dopo due settimane, poi allungate tre settimane, va bene, perché poi quando arriviamo a raccolta, insomma, con queste temperature ce la giochiamo in poco tempo, si finisce tutto e ce la facciamo. Questo è in pratica il primo anno. Cosa succede con tutti questi trattamenti, tutte queste sostanze che andiamo a fare? Cosa succede? Succede che sono tutte sostanze organiche che vanno sempre ad arricchire il terreno, dagli stessi trattamenti fogliari che andiamo a fare. Tutto quello che arriva a terra non sono sostanze chimiche volatili, che svaniscono comunque inermi o addirittura dannose. Va bene, sia per le piante che per le persone. Sono tutte sostanze naturali e minerali che rimarranno nel terreno, il terreno non verrà. Ovviamente se non utilizzate, come abbiamo detto, pesticidi per il terreno, pesticidi disinfestanti, agiranno, agiranno sempre. Lo stesso zolfo che voi applicate, questi due chili e mezzo, tre chili, quello che poi lo ripeterete, va nel terreno e concime anche quello. I trattamenti radicali a base di propoli, rame, vedrete sempre i risultati, ogni volta che andate a trattare, vedrete i risultati. Va bene, anche questo video si è fatto lungo, che cacchio. Sto correndo o no? Va bene. Detto tutto questo, questo è un quadro generale, così vi schermate. I prodotti che si utilizzano alla fine sono più o meno sempre gli stessi, molti che puoi utilizzare radicali come il propoli, lo puoi utilizzare anche per il trattamento fogliare. Stessa cosa il rame, ci sono quelli che puoi utilizzare, si radica la stessa cosa i pannelli, i pannelli li utilizza all'inizio, poi vai a fare... Capite che lo zolfo non costa niente, dai, signore, non costa niente, ed è molto efficace contro lo idio, quindi noi qui ci stiamo schermando in pratica da tutto, tutto con queste sostanze naturali. Però dobbiamo lavorare di prevenzione, questa è una cosa che, a quanto ho capito, molti non sanno e non fanno. La prevenzione, la prevenzione è la nostra salvezza. L'ho detto nei video dedicati alla coltivazione del pomodoro in serra, magari sono un po' vecchi, ormai sembreranno primordiali. Lo sto ripetendo qui, sotto il punto di vista dell'orto, pomodoro nell'orto, abbiamo il vantaggio dell'aria, il sole, cocente, è un'arma a doppio taglio, infatti dobbiamo ombreggiare, è consigliato ombreggiare. State attenti con lo zolfo nelle ore o all'alba o alla sera, al tramonto, le ore più fresche della giornata, anche quando facciamo i trattamenti fogliari, visto che mettiamo lo zolfo bagnabile, va bene. Poi tutta quest'aria che abbiamo farà lavorare meglio tutte le nostre sostanze, infatti in serra abbiamo il problema della reazione. Andate a capire che il ricircolo d'aria che c'è dentro una serra non è uguale a quello che avete all'esterno. Le piogge, anche quelle sono un'arma a doppio taglia, fanno bene che mantengono, fanno sciogliere e penetrare nel terreno molte sostanze, i carbonati soprattutto, però ci vanno a lavare un po', ma se noi mettiamo la facciamatura a striscia siamo anche lì un po' schermati. Certo se piove poi per due giorni di fila andiamo a capire che la nostra striscia di pacciamatura può fare ben poco. Quindi abbiamo questi grandi vantaggi all'aperto, l'aria, l'aria, va bene, questa è una cosa importantissima, ovviamente il pomodoro è una pianta estiva, all'aperto, vuole l'aria, gli piace e andrà molto bene. Ok, penso di aver fatto un bellissimo quadro generale della situazione. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione, fate i bravi picciotti, non so, dovrei fare anche quello dedicato alle concipazioni per l'orto, non so se lo farò perché quest'orto veramente sta diventando un'ossessione. Dai, ci penso. Che dire, fate, già ve l'ho detto, fate i bravi picciotti, siete errati fino a qua, siete troppo bravi picciotti, siete produttivi veramente. Ciao e grazie a tutti.